Buonasera. Buonasera. Lei vive qui? Sì. Sì? Come si chiama? Kim. Kim, un passo indietro, per favore. Abbiamo ricevuto la mentelle per schiamarsi notturni. Sedetevi tutte, resteremo qui per un po'. Ha addosso qualcosa di appuntito con cui potrei farmi male? No. Bene, perché io ce l'ho. I miei affari prevedono esclusivamente con tanti. Wow, si dà da fare. Già. Date il benvenuto sul palco all'inimitabile Magic Mike. Stai esaudendo il desiderio più selvaggio di ogni donna. Sei il marito che non hanno mai avuto. Sei l'uomo dei sogni che non è mai arrivato. Stanno impazzendo, ragazzino. Speravo che fosse uno scherzo. No. Perché? È divertente. Perché ti spogli? Ah, è facile. Donne, soldi e divertimento. Ci sono anche pezzi da 5 dollari. Oh, ok. E da 20? Non sai cosa devo fare per quelli da 20. Guarda dov'ero tre mesi fa e guarda dove sono adesso. Grazie a te. Noi! E dai! Grazie